Ciao a tutti, sono Giacomo Montanari e oggi vi parlo di un'opera incredibile, la Danae di Orazio Gentileschi. Beh, intanto cominciarei con un numero, 30 milioni e mezzo di dollari. Questa è la cifra che il Getty di Los Angeles ha pagato per avere tra le sue collezioni questo manufatto davvero incredibile. Eppure, pensate, quest'opera viene proprio da Genova, ma non solo perché si trovava in una collezione della città, quindi era stata in qualche modo acquisita, ma perché fu proprio dipinta a Genova per la committenza di un genovese della famiglia Sauli, quando nel 1621 volle per la decorazione del suo palazzo le opere di Orazio Gentileschi. Chi è Orazio? Orazio è un grande personaggio di quella, potremmo dire, strepitosa fase del primo Seicento in cui il mondo si innamora della luce di Caravaggio. Ma allo stesso tempo Orazio Gentileschi è anche un artista toscano, il suo cognome è anche Orazio Lomi Gentileschi, e quindi è imparentato anche con Aurelio Lomi, un pittore che a Genova conosciamo molto bene, che ha lavorato qui alla fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, e quindi Orazio propone un mix straordinario di queste due tendenze. Da un lato, e lo si vede bene in quest'opera davvero capitale, c'è la volontà di far emergere queste figure da un fondo scuro, e con quel potente naturalismo che Caravaggio, con cui Orazio, sappiamo, aveva una grande familiarità anche amicale nel suo soggiorno romano, ci aveva insegnato al mondo a guardare ai corpi. Quindi la naturalezza, la capacità di tradurre quella ferialità, quella quotidianità del corpo e degli oggetti in linguaggio pittorico. Ecco, da un lato questo, e dall'altro la preziosità, la maniera anche, l'azio, il potere, la forza narrativa che derivano ai Gentileschi dalla sua tradizione toscana. La Dania si presenta quindi come una summa pittorica di quelle due tendenze che nei primi anni del Seicento si incontrano e si scontrano, soprattutto a Genova, che è un centro straordinario di fusione di linguaggi e di stili, e che sapranno poi dare così tanto all'apertura di quel grande secolo barocco che sarà tutto il Seicento. Ma per quale luogo era stata commissionata quest'opera? Ecco, è un luogo particolare e forse anche oggi poco conosciuto nella sua veste di polo artistico. È il Palazzo Imperiale Sauli de Mari in Campetto. E se oggi voi ci andate trovate che in un suo piano, su due piani anzi, è presente un grande magazzino, l'OVS. Eppure un grande magazzino che ha avuto grande cura nel restaurare una buona parte di questa struttura straordinaria, un palazzo che faceva parte del sistema dei rolli della Repubblica di Genova, quindi un palazzo dedito all'ospitaggio delle personalità che venivano dall'estero, e proprio in questa veste, ancor più bisognoso di un arredo pittorico di altissimo prestigio. Questo quadro stava nei piani superiori, piani che ancora non siamo riusciti ad aprire al pubblico, ma che sono magnificamente decorati dai straordinari pennelli di Domenico Piola, di Bartolomeo Guidobono e di tutta quella grande scuola pittorica barocca genovese che nel rimando col quadro del Gentileschi doveva creare quella sensazione straordinaria di unitarietà tra la pittura che si trova sulle pareti, la decorazione della volta e la preziosità meravigliosa dello spazio architettonico connotato poi da basso nell'atrio dalla grande statua di Filippo Parodi, Ercole con i pomi delle speridi. La dana di Orazio Gentileschi è un segno, il segno della grande e forte preminenza culturale di Genova nel suo secolo d'oro e ancora oggi ci ricorda che i genovesi in giro per il mondo non vanno solo per i loro commerci ma anche per la loro straordinaria cultura. Grazie. Grazie.